Adesso no me la da andretanto. abbiamo avuto l'applicazione dell'applicazione 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 questa è un app con cui si puoi imparare digitale pagamenti che si puoi imparare il tuo telefono e che puoi imparare la pagamento e' più di cui si trovano essere razzata e' cosa s'iliente è razzata quando vai la città e vedere se comiscono le lavaggio ma qui ci possiamo fare per questo app è che è che non guarda Schiazza che sia di quattro tutti gli amici di download e tutti gli amici di uscita ma come qui? ma come qui? ci vogliamo che ci sia la condizione per le persone non è una cosa che pensano che è un avancello non è solo per rile e gli amici ma è per chi e questo vogliamo anche per la markt Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.